L'adrinazione la scorsa notte al centro commerciale La Vela di San Prospero. A fare le spese del blitz, messo a segno intorno alle 2.30, è stato un negozio di abbigliamento. I malviventi sono entrati sfondando una vetrina e hanno prelevato capi per un valore di oltre 20.000 euro. Nello stesso centro commerciale, non più tardi di un paio di settimane fa, ad essere preso di mira era stato un negozio di telefonia. In quel caso, l'entrata in funzione del sistema di allarme e soprattutto il tempestivo intervento sia del titolare che degli agenti della squadra volanti della polizia, avevano consentito l'arresto dei ladri. A finire in manette erano stati tre romeni sorpresi all'interno dell'esercizio commerciale. Già da tempo i commercianti dello shopping center lamentano problemi di sicurezza. Nel corso del 2013 erano stati registrati dieci furti e una rapina a mano armata. Sempre la scorsa notte, nella zona di Via Savani, c'è stato invece un inseguimento tra agenti della polizia municipale e alcuni pusher africani che abitualmente presidiano la zona. Gli spacciatori sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo essere fuggiti in bicicletta alla vista dell'auto delle forze dell'ordine. Gli agenti sono riusciti a recuperare le bici abbandonate in strada dai malviventi dileguatisi poi a piedi. L'intervento eseguito dalla polizia municipale rientra nell'ambito di un servizio di controllo volto a contrastare lo spaccio di stupefacenti in città. Il comandante del corpo, Gaetano Noè, ha infatti disposto attività di presidio e di monitoraggio nella zona più problematica di Parma, nel quartiere San Leonardo, tra via Trento e via Palermo, nell'oltre Torrente e nella zona tra viale Piacenza, via Lanfranco e via Savani. Un'attività che sarà potenziata nel corso delle prossime settimane con la collaborazione anche di carabinieri e polizia di Stato. Le azioni di controllo del territorio nascono anche a seguito delle lamentelle di molti residenti. La zona che negli ultimi tempi risulta più problematica è quella tra viale Piacenza e via Savani, dove pusher africani non appena cala il buio prendono possesso dell'area attendendo i clienti agli angoli delle strade. Le attività di contrasto messe in campo dalle forze dell'ordine tuttavia non sono facili, in quanto i pusher non tengono mai addosso lo stupefacente, ma lo custodiscono nelle vicinanze in nascondigli ricavati nei vuole o pertugi, già sezionato in piccole dosi, prelevandole poi alla richiesta del cliente.